Siamo in 705, avventura 51, vedete la razza, salta alle 19 film, 14 liberazioni, come è passato? Ho passato da Catanulare, è matto? Quella è la Sittrede, questa avventura. Questa è la Sittrede, questa è la Sittrede, questa è la Sittrede. Ho passato da Catanulare, vedete? 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 Avvicinato da moffo, se dedica tutti quanti ilyassi, passato da Catanulare Oh my god. Oh my god. Mamma mia, guarda gol. Che faccio se ho da guardando la, non lo parlo. buonissimi che bello, ho passato tutto accaduto a nullare mamma mia, quanto cuore mamma mia mamma mia, che bello, ma lei lei si è fatto cuore sono passato tutto accaduto non so neanche dove si andare e ho finito mamma mia, aiuto Valeria sono passato l'altra volta tutto accaduto a nullare non sono andato, vedi? mi sono pensato sa Federico, mi vedi? sono passato tutto accaduto a nullare non so neanche non so neanche vedi e poi la News Sì, non ci sono. Ora si salta a Africa. Che è successo? Eh. Sei fermato. Aiuto. Che è successo? Sei guazzato? Si è guazzato. Si è guazzato. Purtroppo sono t'accordo ad annullare. Giovanni, vedi? Si è guazzato. Non parte più. Ecco, muori padre. Mamma mia, siamo stati bloccati. No parole, mamma mia, si è bloccato. Che bello, vedi? La parte più bella. Che fai molto la doppia, sono t'accordo. Tenti conto quant'è bellezza. Se funziona, purtroppo si è rotto. Mori padre. Ecco, vedi? È ripartito. Mamma mia, che paura. Sei fermato sotto il quadradorale. Quando sei storia, è ripartito subito, Valeria. Adesso. Mamma mia. Non è finito. Voi saltiamo alla fermata, Valeria. Devi essere per provata. Siamo a Europa 2. Mamma mia, che paura. Ecco, voi saltiamo alla fermata. Lo sapevo io. È Europa 2. Voi saltiamo alla fermata. Mamma mia, sto guardando. E io lo so. Voi saltiamo alla fermata, aiuto. Teni conto. Mamma mia, Federico. Dove stai guardando? Dove stai guardando? Uuuuh. Saltiamo alla fermata. Uuuuh. 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 Mamma mia, saltiamo al fermato. Tenti conto. Non lo fa, questa fermata. Sì Sì Sì